Da domenica l'Abruzzo tornerà in zona arancione, si parla di vaccini, di vaccinazione, di piano della regione per le vaccinazioni, però innanzitutto voi contestate la confusione sui numeri, numeri che poi secondo voi sono anche la causa di questo ritorno in zona arancione? C'è una confusione totale, non lo diciamo noi, lo dicono gli studi, Pescara e Chieti tra le ultime in Italia come capoluoghi per quanto riguarda il contagio e quindi la diffusione del contagio e lo dice lo stesso Marsilio perché firma ordinanze per quanto riguarda la zona arancione e ci si torna presto, nel momento nel quale qualche ora fa si diceva è tutto sotto controllo, siamo in zona gialla. In realtà c'è tanta confusione, non c'è il piano vaccinale e soprattutto non c'è sorveglianza sanitaria perché sul territorio dai dipartimenti della prevenzione alle USCA con 11.000 abruzzesi chiusi dentro le proprie abitazioni non c'è nessuna presa in carico e nessun dato certo. La regione prevede di vaccinare il 70% degli abruzzesi entro il 30 giugno? Ma è questa la nostra richiesta che avanziamo ormai da mesi, anche durante il bilancio di previsione alla fine dello scorso anno chiedevamo di avere immediatamente il piano per la vaccinazione, non abbiamo avuto nulla. Un milione di persone entro il 30 giugno, richiamati per una seconda volta fanno 2 milioni di persone, oltre 100.000 persone hanno più di 80 anni, quasi 300.000 tra 60 e 79 anni e ci chiedono ogni giorno dove, come e quando posso vaccinarmi. Non c'è nessun piano, voglio soltanto fare alcune considerazioni sui numeri. Ogni centro vaccinale impiega circa 10 persone, tra persone amministrative, professioni sanitarie e dirigenti medici. Possono vaccinare dalle 100 alle 150 vaccinazioni, quindi persone al giorno. Pensate cosa significa arrivare a 2 milioni entro il 30 giugno. La domanda nostra è semplice, vogliamo il piano, vogliamo sapere quali sono i centri vaccinali, vogliamo sapere qual è l'esercito dei vaccinatori, quanta gente del sistema sanitario regionale ovviamente sarà lì sui centri vaccinali a operare per vaccinare le persone. Questo chiediamo, le risorse ci sono, sono stati dati milioni e milioni di euro per rafforzare il numero degli operatori a tal fine, manca la programmazione, perché questo Dipartimento della Salute non ha programmato nulla, anche sul tema vaccini Covid.